Ma che intanto le indicazioni da questa partita? Diciamo buone, siamo in un momento di crescita costante, anche ieri sera abbiamo fatto un'altra amichevole, oggi un ulteriore amichevole, ogni volta ci sono sempre dei passettini avanti, importanti da parte dei ragazzi, che devo veramente ringraziarli per la grande dedizione e impegno che stanno mettendo dagli allenamenti e nelle partite, sono veramente soddisfatto. Poi riescono anche ad assorbire i carichi di lavoro? Sì, fortunatamente anche oggi il gran caldo si è fatto un po' sentire, però si stanno comportando bene anche sotto l'aspetto fisico, insomma stanno reagendo veramente bene ai carichi che gli sono stati fatti durante la settimana. Sotto i cento aspetti questi ultimi due amichevoli hanno chiuso la prima fase? Sì, si ricomincia domenica prossima con la prima partita ufficiale di Coppa, dove andremo a affrontare lo Spojano, quindi il ciclo di amichevoli per noi al momento si è concluso. Certo, perché adesso bisogna, come dire, continuare a lavorare su questi ritmi. Eh certo, questo sicuramente, non bisogna mollare ora assolutamente, perché arrivano ora le partite che contano, quindi è importante mantenere se non aumentare i ritmi. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.